Avete presente la frase è successo un 48? Ecco, allora dovete assolutamente conoscere i pre-Raffaelliti. Nel 1848 succede davvero di tutto, tra rivoluzioni politiche e sociali, cambia il mondo, cambia l'arte, cambia il lavoro, cambia anche il ruolo della donna, e arrivano loro. Un gruppo di studenti con una confraternita segreta, che già nel nome mette bene in chiaro le cose, PRB, Pre-Raffaellit Brotherhood, cioè la confraternita dei pre-Raffaelliti. L'idea infatti è quella di prendere in considerazione l'arte fino a Raffaello, re o secondo loro di aver disprezzato la semplicità grandiosa della realtà, ed aver voluto rappresentare la realtà idealizzandola. Fra chiacchiere, caffè e libri ideali vogliono liberare la pittura inglese dal vecchiume, che sempre secondo loro la imprigiona e la condiziona, e quindi sono in netta contraposizione con la Royal Academy. Ah, questi artisti non si limitano a dipingere, spesso i membri della confraternita scrivevano poesie, sagge e storie varie, pubblicati poi nella loro rivista intitolata The Germ, il germe, che ebbe vita decisamente breve, solo quattro numeri, una vita breve come questa corrente artistica. Uno dei soggetti preferiti dai pre-Raffaelliti era sicuramente l'amore tragico e romantico. La vita reale dipinta di questi artisti era, per loro, una serie di difficoltà erogne varie, che valeva sicuramente la pena di sottolineare, con una aderenza, magari un po' romanzata, alle situazioni della loro quotidianità. E quindi, così come reali erano i loro modelli, spesso anche i familiari e i amici posavano per loro, ed erano quindi molto reali. La confraternita inglese ha origine da tre artisti, John Everett Millet, un ex bambino prodigio ammesso all'Accademia di Belle Arti a soli 12 anni. Da Dante Gabriel Rossetti, poeta e pittore, figlio di un membro della carboneria italiana, esiliato in Inghilterra, e da William Holman Hunt, che ebbe un inizio piuttosto travagliato, arrivando agli studi artistici solo in un secondo momento, e sfidando anche la sua famiglia, che lo avrebbe voluto impiegato in un normale lavoro commerciale, ottenendo all'inizio più critiche che elogi. A questi si aggiungeranno poi altri nomi, come Ford Maddox Brown, più anziano, già conosciuto, convinto però dalle idee dei fondatori della confraternita, che con i loro ideali coinvolgeranno anche George Stephens, uno studente di pittura che poi sceglierà la strada della critica d'arte. Ma questi artisti non sono soli nella loro battaglia contro di fatto tutta l'arte da Raffaello in poi. Ci sono anche le donne, parenti degli artisti, come Cristina Rossetti, poetessa e sorella di Gabriel, ma anche muse ispiratrici e colleghe d'arte, come Elisabeth Sidal, che sposerà poi Rossetti, pittrice dilettante, che si unisce per ultima al gruppo, ma che con la sua fortissima personalità non sarà certo una figura di secondo piano. Donne rappresentate in modo molto reale, bellissime, sensuali, che accompagnano i pre-Raffaelliti in questo percorso che vuole rivoluzionare i temi e i soggetti religiosi, ma anche letterali e sociali, con questi colori accesi e brillanti che si rifanno direttamente alla pittura bizantina, ma con una cura per il dettaglio e per il particolare che sono direttamente figli della fotografia, la nuova arte, che ormai era ben conosciuta. Donne che però stanno vivendo nell'epoca vittoriana, cioè avete presente, ve la ricordate, in questo periodo la donna è il focolare della famiglia, la religione è davvero sacra e le convenzioni e le regole della società non si mettono nemmeno in discussione. E invece i pre-Raffaelliti lo faranno, o se lo faranno. Ricordiamoci che per i pre-Raffaelliti il disegno è fondamentale, ed ecco quindi delle deliziosi illustrazioni, quasi dei fumetti, con scene bibliche serissime, ma rappresentate con un brio, con una leggerezza, che ce le fanno apparire quasi a noi contemporanee. La disperazione delle monache davanti al disseppelimento della regina Matilde è davvero fra il comico e il drammatico. L'episodio si ispiera alla guerra di religione nella Francia del Seicento e allude anche alle tensioni fa protestanti e cattolici nella Gran Bretagna ottocentesca. Millet è proprio un originale ed ecco quindi l'idea di farci sbirciare quasi dalla serratura per vedere un Gesù bambino e capellone mentre lavora nella falegnameria paterna e si ferisce una mano anticipando forse le ferite della croce. È un'idea molto moderna, saccaframiglia sì, ma una famiglia di normali lavoratori. Molti dei pittori pre-Raffaelliti sceglievano di rappresentare brani di letteratura di Dante, Chaucer, Shakespeare, storie d'amore difficili con finali spesso tragici. Insomma, molto simili purtroppo per loro alle difficoltà che incontravano nella vita quotidiana, condizionata da severe regole sociali dove ceto, denaro e nobiltà tendevano a complicare ulteriormente i rapporti amorosi. L'amore fra le classi sociali differenti è qui rappresentato nell'opera La Proposta con il marchese di Saluzzo che si dichiara a Griselda una contadina, anche in questo caso la modella e la Siddal. La poveretta non sa che sta iniziando un lungo calvario dove verrà sottoposta a prove terribili che dovranno garantire pazienza, dedizione, fiducia e il suo amore. Ne uscirà vincitrice, oh Dio, insomma, considerando l'epoca vittoriana, a noi la sua storia di donna sottomessa piace pochino, diciamocelo. In Claudio e Isabella invece vediamo il giovane in catene, condannato a morte da Angelo, vicario del Duca di Vienna. Si salverà solo in cambio della perdita della virtù e dell'onore della sorella Isabella che dovrà concedersi al vicario. È il dilemma morale protagonista dell'opera di Shakespeare, misura per misura. Isabella ha in realtà già deciso, lo sappiamo, da quei petali in terra, il fiore è distrutto, la veste della giovane appare già meno candida, ma si sta sacrificando per salvare il fratello, insomma, una vera eroina. La morte di Ophelia, direttamente dall'Amleto di Shakespeare, è il capolavoro forse più famoso di Millet. Respinta dall'amato, Amleto, che in più le uccide il padre, cade in un torrente e affoga con estrema eleganza, peraltro, sembra dormire fra queste acque chiare e i fiori che sono tutti simbolici, sia il papavero che stringe il mano, sia le margheritine che le galleggia intorno. Pare che la Siddal posò realmente vestita da sposa in una vasca da bagno. Già, perché i pre-Raffaelliti sono prima ancora degli impressionisti che verranno, sono attentissimi alla copia del vero e alle scene all'aperto. L'ample n'air, in pratica, lo inventano loro. Ah, la Siddal prese anche un gran freddo, rimanendo in ammollo nell'acqua, e si ammalò di bronchite, tanto che Millet fu costretto a pagare le spede mediche al padre di lei, perché ancora non aveva sposato Rossetti. I pittori pre-Raffaelliti scelgono i soggetti religiosi, ma li reinterpretano. Le loro scene sono sempre molto reali e concrete, e soprattutto ricchissime di dettagli, tutti da interpretare. Tanto che spesso non sono stati molto apprezzati dai loro contemporanei, anche se in qualche caso li convincono strada facendo, come ad esempio con John Ruskin, uno degli intellettuali più influenti del periodo che inizialmente li critica, ma che finirà poi per sostenerli in maniera molto diretta, aiutandoli in pratica a farsi conoscere ed apprezzare da tutti. Ed ecco quindi una Madonna classica per inquadratura, forma, impianto scenografico, con le figure in primo piano e lo scorcio prospettico sullo sfondo a destra. Una Madonna che potrebbe essere stata dipinta addirittura da Raffaello, ma basterà guardare la cornice dove i classici angioletti che cantano, ci sono, sì sì, ma sono appena bozzati nei loro cerchietti sullo sfondo oro, e dove in pratica la figura sacra, altro non è che una madre dell'epoca vittoriana, che fa il bagno al bambino prima di metterlo a letto la sera del sabato, e Maddox Brown, qui ritrae anche la figlia Lucy in preghiera. Nella scena classica che vede Gesù lavare i piedi a Pietro, è come se noi fossimo lì presenti, con loro e in ginocchio, quasi come per dare una mano. Gli apostoli, come spesso accadeva, hanno i volti di amici e colleghi, ante rappresentato nel personaggio con la testa fra le mani, di fianco al discepolo biondo riconosciamo addirittura Rossetti. In origine la figura di Gesù era nuda dalla vita in su, proprio per sottolineare il gesto umile messo in atto da un lavoratore, ma un Cristo nudo all'epoca vittoriana proprio non era accettabile, e quindi per poterlo vendere l'artista decise di rivestirlo completamente. Nell'Ottocento la rivoluzione industriale in Europa porta cambiamenti, ma anche sviluppi tecnologici e la crescita dell'urbanizzazione. In tutto questo cambiano anche le condizioni di vita di donne e bambini, con più diritti e maggiore istruzione per entrambi. Ovviamente i pre-Raffaelliti sono in primo piano per testimoniare tutto questo. Nel misterioso dipinto incompiuto, Brown raffigura sua moglie, mentre presenta a lui il figlio appena nato, tecnicamente anche per farglielo riconoscere, visto è considerato che all'epoca era prassi comune non dare il proprio cognome ai figli nati fuori dal matrimonio. Ma questo bambino era legale perché l'artista aveva sposato la modella del dipinto, Emma, ma comunque dopo la nascita del loro primo figlio. Ma il signore cui fa riferimento il titolo dell'opera, Prendete vostro figlio signore, quell'uomo in realtà siamo noi, esattamente nel punto in cui si pone l'autore, che vediamo anche riflesso nello specchio curvo che sta dietro la testa della donna, che appare così come una vera e propria Madonna, con tanto di sacra aureola, che in realtà è lo specchio chiaramente ispirato all'opera più famosa del pittore Fiammingo Van Eyck, che nello stesso specchio aveva riflesso i coniugi Arnolfini. L'opera non è finita perché il bambino morì prematuramente, fatto tragico ma purtroppo non insolito in quel periodo. Il ruolo della donna stava cambiando, ma lentamente, ce lo ricorda Collinson che mette in bella mostra, praticamente in vendita, una donna, offerta come gli altri oggetti in vendita alla fiera della parrocchia, proprio come si usava a fare nel mercato matrimoniale dell'epoca vittoriana. Deverel del resto fa di peggio, per ricordarci quanto e come fosse ancora poco considerata la figura femminile dell'epoca. La sua donna ha ai suoi piedi un cagnolino e all'epoca scrittori, filosofi e teologi discutevano parecchio del rapporto tra essere umano e natura, associando però la donna alla natura e quindi paragonandola di fatto al cagnolino. Prima degli impressionisti sono stati proprio per Raffaelliti a dipingere all'aperto e non solo in studio. Del resto potevano spostarsi anche grazie alle nuove tecnologie, aver quindi a disposizione molta più natura da rappresentare, cosa del resto molto incoraggiata anche dal collezionista che li riede famosissimi, John Ruskin, che vedeva nella natura l'opera d'arte creata da Dio. I pre-Raffaelliti, quando arrivano a rappresentare la realtà e la natura, sono confusi, inutile girarci intorno. Vivono nell'epoca della macchina fotografica e dei particolari perfettamente a fuoco, però per quanto riguarda l'arte si rifanno al Medioevo e al Quattrocento e subito verrebbe da pensare allo sfumato leonardesco che rende le prospettive in lontananza sfumate così come l'occhio umano in realtà poi le vede. E invece no. I pre-Raffaelliti amano talmente tanto il particolare da dimenticarsi di tutti i discorsi ottici di Leonardo da Vinci. Ed ecco quindi un maggio a Regents Park minuziosamente dettagliato fino a chilometri di distanza, così come il selciato in rovina in primissimo piano della casa infestata dai fantasmi, aggiunta peraltro sullo sfondo in un secondo momento, che verrà però poi il titolo all'opera. Torna in auge anche una forma di vedutismo settecentesco. Ormai si viaggia anche per piacere e poter mostrare le meraviglie del mondo è quasi un obbligo. Si attraversa la manica e si arriva in Italia, qui rappresentata con l'immagine irreale dai contorni nettissimi di una Firenze racchiusa nelle mura, vista da bello sguardo, là dove una folta comunità di britannici si era trasferita e fermata fin dall'Ottocento. E anche qui la lezione dello sfumato leonardesco è proprio sfumata. Sì, ma via eh! Nella seconda fase estetica, i pre-Raffaelliti esplorano la bellezza fra arte, design, poesia e musica. La bellezza diventa più sensuale, i ritratti sono figure della loro cerchia, ma nelle vesti di personaggi letterari che però sono persi nelle loro sensuali fantasticherie. I pittori qui si avvicinano al rinascimento di Tiziano e Leonardo, che hanno uno stile perfetto per raffigurare le bellissime modelle che diventano vere e proprie icone di stile da seguire. Ed ecco quindi Rossetti, che raffigura Aurelia, la modella Fanny Comfort, la sua amante, nei panni di Angelo da Verona, l'amata a cui Fazio degli Uberti aveva dedicato una poesia tradotta poi dallo stesso Rossetti. La posa riprende la ritrattistica di Tiziano, così come il colore rosso dei capelli, mentre Aurelia, con lo sguardo perso altrove, disfa una treccia. Rossetti, imbeata Beatrix, si ispira alla vita nuova di Dante, dove il poeta racconta il proprio amore idealizzato per Beatrice, amplificato dalla sua morte prematura, proprio come avvenne per Elisabeth Siddal, che qui è l'amata di Dante, ma è anche l'amata perduta di Rossetti. La modella morirà per abuso di laudano, solo due anni dopo aver sposato l'artista, e qui il vedovo la ritrea a memoria, sottolineando il racconto con simboli nascosti, come ad esempio il papavero tenuto nel becco della colomba, che però è rossastra, non certo bianca come lo spirito santo. Papavero dal quale si ricava l'oppio che ha ucciso l'amata del pittore. Lo sfumato, questa volta, è quello morbido di Leonardo, i contorni non esistono più e lo stile è quindi molto più rinascimentale che medievale. In Monna Vanna, la modella Alexa Wilding vuole letteralmente sollecitare tutti i sensi, il tatto mentre si attorciglia sulle mani la lunghissima collana rossa, la vista che si perde nel tessuto prezioso di quelle immense maniche e l'olfatto che riesce bene a immaginare il profumo di quei fiori sullo sfondo, opulenza, posa e colori decisamente rinascimentali. E va a rappresentare poi tutti i sensi anche il ritratto di Ada Vernonna, modella che rappresenta Monna Pomona, la divinità romana dei frutti. Possiamo immaginare diversi materiali con i quali viene a contatto. Il profumo e la consistenza della mela, quella dei fiori, la freddezza delle perle metalliche, il peso dell'abito. È una scena molto privata, quasi intima. Forse si sta vestendo o forse si sta spogliando, chissà. La dama di Charlotte è l'eroina del poemetto di Tennyson. La ragazza chiusa in una torre costretta a vedere la vita solo riflessa in uno specchio e la maledizione ha predetto che morirà quando smetterà di ricamare le scene osservate. Ma la donna dell'Ottocento è una ribelle ed è in cerca della propria autonomia. Visto l'ancillotto nello specchio, decide di sfidare la sorte, andando nel mondo in cerca dell'amato sopra una barca, portandosi dietro l'immenso ricamo che rappresenta la sua vita. Waterhouse rende l'atmosfera quasi sospesa. Le rondini volano basse, delle tre candele due sono già spente, la morte vicina. E le pennellate con cui viene resa tutta la scena sono già decisamente molto vicine all'impressionismo. Ma questo è anche il periodo di Charles Dickens, che peraltro non apprezzava particolarmente i pre-Raffaelliti. Eppure, proprio un suo romanzo viene scelto da Robert Martineau, che per parlare con le immagini, anche di temi sociali e di diritto allo studio, sceglie proprio di rappresentare in lezioni di scrittura quella che è una scena del romanzo, la bottega dell'antiquario. Ed ecco l'orfanella Lidl Nell che insegna pazientemente a Kitta a leggere e a scrivere. Guardate lui quanto è concentrato. Ma non tutti gli alunni sono diligenti e Maddox Brown, con un acquarello, cattura l'argento vivo che ha sicuramente addosso la scolara, che è la peggiore della classe, costretta allo studio mentre vorrebbe sicuramente essere altrove e al calamaio preferisce una bella mela da sgranocchiare. Nel 1870 l'istruzione venne resa obbligatoria per tutti i minori. Ecco perché la questione dell'istruzione infantile era un tema molto discusso in quel periodo. Insomma, recupero dell'arte e degli ideali artistici prima di Raffaello, revival del periodo medievale per quanto riguarda l'etica e il gusto estetico, ma siamo di fronte all'inizio dell'epoca moderna e i pittori della confraternita PRB sono sicuramente ben legati ed inseriti nel loro tempo, un'epoca di grandi cambiamenti con un occhio al passato. Ma i tempi cambiano e anche i pre-Raffaelliti si trasformeranno in quello che sarà tanto per cambiare un movimento artistico controcorrente, quello dell'arts and crafts. Grazie. Grazie.